Buongiorno e bentornati a su gaming galaxy lo so lo so sono qualche ora in ritardo con l'uscita di questo video visto che la roadmap è uscita circa 6 ore fa in questo momento sono le 4 del mattino e sto registrando vogliate scusarmi ma come vedete sono arrivato anche io a portare questo contenuto la roadmap vi dirò che sinceramente mi aspettavo qualcosa di diverso in quanto l'annuncio comunque nei giorni precedenti e dopo la demo mi avevano fatto immaginare qualcosa a riguardo ma non così tanta roba e soprattutto così presto bando alle ciance veniamo a noi nel mese di marzo 2019 uscirà ancora non si sa in quale forma e quando uscirà l'aggiornamento atto 1 o echi della realtà che si suddividerà in tre macro update con anessi altrettanto micro update che andranno a comporre poi tutto l'atto qualcosa la sapevamo già altre cose ci giungono nuove andiamo a vederle nel dettaglio l'update 1 evolving world o tradotto per i comuni mortali l'evoluzione del mondo l'update 2 stronger together cioè più forti assieme e l'update 3 the cataclism o i cataclismi bene ovviamente queste update non si sa esattamente cosa porteranno al loro interno se non per l'update 3 dove sappiamo per certo visto il titolo di quel capitolo preciso sicuramente verranno introdotti i cataclismi ne abbiamo già parlato nel video precedente è l'ultima riga dell'immagine però quella che ci interessa ed è quella la cosa più succulenta in quanto ci dà un'idea reale di quello che bioware ha in servo per noi a marzo infatti la prima cosa interessante sono le scritte nuovi eventi nuovi update nuove missioni e soprattutto una nuova roccaforte eh sì già da marzo avremo una roccaforte in più che si aggiungerà alle tre già presenti nel titolo all'uscita quindi fin da subito bioware ci mette nelle condizioni di dover inseguire i loro update e non aspettarli come per esempio era successo con destiny 2 gli altri update riguardano l'espansione del mondo di gioco con i cataclismi che dovrebbe essere l'update più importante di marzo le gilde di cui si era parlato già e le classifiche ancora le classifiche in realtà non si è ben capito cosa saranno visto che non se ne era parlato fino ad ora e soprattutto la quality of life cioè la qualità della vita in game di solito questi sono update fondamentali dopo l'avvio di un nuovo gioco ultima ma non meno importante è l'espansione del sistema di progressione che conclude un update di non poco conto presumendo che si vedrà già un aumento del proprio gear score e plausibilmente del proprio livello del freelancer magari con qualche abilità nuova visto che le due cose in teoria dovrebbero andare di paro passo ora la roadmap finisce qua o meglio quello che è stato svelato finisce qua anche se si evince dall'immagine che sono già presenti nel calendario altre due patch di questo tipo ma come lo è per questo non sappiamo quando saranno ma soprattutto che cosa ci porteranno di nuovo anche qua possiamo presumere che questo tipo di update sarà eseguito ogni tre mesi di solito funziona così anche se spero vivamente di essere smentito che dire quindi bioware inizia col botto facendo vedere fin da subito che è lei che vuole dominare il mercato dei tps lasciando indietro la concorrenza che a parer mio non è altro che the division 2 in uscita il 15 marzo per l'appunto ma ci riuscirà lo scopriremo solo vivendo per il resto tra una settimana porterò finalmente mettere le mani su questo titolo e sinceramente non vedo l'ora e fin da subito vi porterò guide contenuti e pareri così che il 22 arriviate già preparati e pronti con questo è tutto gg a tutti quanti grazie 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 qua grazie grazie Ho